Meditazione e guarigione. Questo è il tema principale. Non leggo la domanda, è un po' più articolata, ma insomma il succo è cercare di capire qual è il nesso tra la meditazione e la guarigione. Come si fa a guarire attraverso la meditazione? Perché la meditazione è così benefica, è così studiata in ambito clinico, medico e scientifico ai fini proprio della guarigione, sia psichica che fisica in certi casi. E in certi altri casi, magari se non si parla di vera e propria guarigione, comunque si parla per esempio di terapia del dolore attraverso la meditazione. Ma io sono tra quelli a cui piace dare anche un'anno connotazione non solo medica, anche perché non sono un medico, quindi non potrei fare altrimenti in quel caso che a tenermi alle ricerche scientifiche, che comunque in ambito di benefici e di uso terapeutico della meditazione sta scoprendo cose sempre più interessanti. C'è anche un bellissimo libro che mi pare Meditazione come guarigione, Meditare come guarigione, fatto scritto a quattro mani, tra Goleman, quello dell'intelligenza emotiva, e non ricordo chi altro, insomma adesso non ricordo benissimo il titolo. Però è un libro che già ha raccolto tantissime ricerche scientifiche e negli anni sono state fatte sulla meditazione. Prevalentemente negli ultimi anni si stanno concentrando sui benefici della meditazione anche legati allo studio soprattutto della mindfulness, quindi in qualche modo stiamo parlando della Vipassana, cioè della meditazione di consapevolezza. Perché, da un mio punto di vista però, che quindi si scosta un pochino da quello prettamente scientifico, ma vorrei dare un valore aggiunto, quello che da un mio punto di vista è un valore aggiunto, che la vera guarigione non è solo fisica o solo psichica, spesso le due cose si accompagnano, tant'è che parliamo di psicosoma, quindi psiche, che è l'aspetto animico, è l'aspetto spirituale, è l'aspetto psicologico, psicologico viene da psiche, che rappresenta in greco, significa il soffio, quindi il soffio vitale, e si traduce come anima, in qualche modo. e quindi la psiche si cura di ciò che ci riguarda, ma non è prettamente corporeo. E quindi è un aspetto spirituale, psiche è un aspetto spirituale, non solo psicologico, e soma è l'aspetto somatico, è l'aspetto quindi legato al corpo. Tra l'altro la medicina ben conosce gli effetti, per esempio placebo di una medicina, quindi basta sapere, è la compliance, anche la capacità quindi del medico, di poter far credere al proprio paziente, quanto quella medicina possa essere risolutiva per la sua guarigione. Quindi già vediamo come un atteggiamento mentale può fare la differenza talvolta tra guarire o meno. E quindi già ci stiamo avvicinando a quello che è un pochino il core di questo discorso, la parte centrante di questo discorso. perché la meditazione può essere effettivamente guaritrice. Secondo me, soprattutto la vipassana, o la mindfulness, quindi la meditazione di consapevolezza, può essere di grandissimo supporto, non solo queste, credo quasi tutte le meditazioni, però uno degli apporti maggiori che può offrire la meditazione di consapevolezza è che la consapevolezza ci aiuta a non avere più quella fretta del rifiuto. Spesso noi, quando abbiamo una sofferenza, quando abbiamo una malattia, quando abbiamo un disagio, la prima reazione che abbiamo è di rifiuto. E anche di negazione, che è un altro modo di rifiutare, quindi non lo voglio, oppure faccio finta che non ho questo problema, mi comporto come se non avessi questo problema, specie se è un problema grave. La consapevolezza è invece spietata. La meditazione ci aiuta spietatamente, tra virgolette, perché lo fa con un animo sereno, ma è impietosa nel guardare la realtà per quella che è. Perché è impietosa? Perché avviene a cuor sereno? Perché invece di stare nel rifiuto e nella negazione, quindi invece di stare nel giudizio del fenomeno, che non ci permette, il giudizio non ci permette, il pregiudizio non ci permette di vedere il fenomeno per quello che è veramente. Perché ci affretteremmo, piuttosto che guardarlo, analizzarlo, comprenderlo e trascenderlo, finiremo per non vederlo, per volercene affrancare, per affrettarci a mettere i paraocchi e non vedere quella realtà. La meditazione invece ci aiuta a fare questa magia che è quello di accogliere il fenomeno per quello che è, senza ingigantirlo, senza rattenerlo, ma guardandolo negli occhi per quello che è veramente. Quindi è un esame di realtà quello che facciamo con la meditazione di consapevolezza. Analizziamo lo stato delle cose per come nel qui e ora si sta manifestando. Questo accogliere contrariamente a rifiuto questa accoglienza rispetto alla circostanza è già spesso una un certo primo livello di guarigione. Magari non è ancora una guarigione fisica, ma è una guarigione del cuore, una guarigione spirituale, una guarigione animica. Smettiamo quindi di fare abbraccio di ferro alimentando il disagio. Buddha parlava di una doppia freccia, dice c'è una prima freccia che ci viene scagliata da qualcuno per esempio. E se noi invece di dire non voglio la freccia, chi me l'ha tirata era un amico, era un nemico, come era la divisa, io non mi occupo di di tirar via quella freccia ecco che appunto pregiudico, cioè non sto con la realtà, non vedo che la cosa più semplice da fare è levare la freccia, ma al contrario è come se me ne tirassi un'altra. Negando l'esperienza, la sofferenza che in qualche modo questa freccia mi sta causando, a parte che questa freccia continua a fare male perché non la levo, ma soprattutto è come se rifiutando di aver ricevuto una freccia me ne conficcassi un'altra io. E questo rifiuto, questo fare braccio di ferro con quello che la vita ci offre come fenomeni, come lezioni di vita, chiamiamole così, è motivo di sofferenza anche maggiore rispetto alla prima freccia, rispetto al fenomeno in sé. Quindi una prima cosa che noi facciamo è non aggiungiamo ulteriore sofferenza, stiamo con quello che c'è serenamente, pacificamente, abbiamo già levato la seconda freccia, che è gran parte del dolore. E quindi possiamo guardare a occhi sereni la realtà di questo fenomeno doloroso che chiameremo a questo punto prima freccia, tanto per continuare a usare questa storiella. E questo primo dolore, questa prima freccia, la possiamo attraversare a cor sereno e questo è già una forma di guarigione. talvolta può produrre addirittura delle guarigioni miracolose. Non dico di aspettarsi miracoli per questo, ma non è questo il punto. Voglio citare una storia, una storia reale, raccontata molto bene da chi l'ha vissuta, che si chiama Anita Morjani, che ha avuto un'esperienza di quelle che noi potremmo chiamare un'esperienza di premorte. Era in fin di vita per via di un cancro, non aveva voluto sottoporsi a chemioterapia e insomma il marito la porta in ospedale in condizioni pietose con metastasi a fior di pelle che avevano lacerato la pelle con dei buboni infetti e non si reggeva la testa in piedi e sulla carrozzina l'accompagnano in ospedale. Lei ha un'esperienza di quelle esperienze di premorte in cui in qualche modo si ritrova in paradiso. Vede dall'alto il suo corpo, la classica situazione dell'esperienza di premorte e a un certo punto sentete anche il medico che dice che non ce la farà che non passerà la notte e che lo dice al suo marito che però sta in un'altra stanza e riporterà poi tutti i dettagli di questo evento in cui le posizioni si trovavano quali erano le parole esatte che cosa stava facendo il marito mentre glielo diceva mi pare che stesse leggendo una rivista ora mi posso confondere però ecco dà dei dettagli precisi per cui anche il marito in effetti rimane sorpreso quando poi si riprende ma che cosa succede nell'aldilà quando lei si ritrova in qualche modo in questo paradiso si accorge della bellezza si accorge della bellezza della vita della meravigliosa esperienza di morte tra virgolette che sta vivendo quindi della bellezza anche della morte si accorge anche della bellezza della malattia di come questa malattia in qualche modo le serviva insomma vive un'esperienza bellissima dove tutto è meraviglioso la vita la morte la malattia è tutto così meraviglioso che nasce in lei una forma di di accettazione di 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 pace con lo stato delle cose le viene chiesto se vuole tornare indietro o andare avanti nell'aldilà a chi viene chiesto questo spesso capita che tutti quelli che ci raccontano di questa esperienza ci dicono che stavano benissimo non erano di là e che non avevano grande intenzione di tornare indietro però poi tornano per un motivo o per un altro anche Anita Morgiani decide di tornare decide di tornare e con un cuore sereno non teme attenzione lei sta rientrando in un corpo martoriato con metastasi e fior di pelle con un tumore avanzato che che la stava uccidendo di fatto ma lei a quel punto il suo animo è tale per cui non ne ha paura sa che andrà tutto bene nel momento in cui torna andrà tutto bene infatti miracolosamente dopo due settimane solo di degenza in ospedale torna a casa e non c'è più traccia neanche del tumore ci sono anche la cosa sorprendente ancora più sorprendente sono questi buboni queste lacerazioni che aveva a fior di pelle che invece guariscono con una certa rapidità anch'esse tutto in qualche modo quindi rientra a quel punto lei cioè non c'è più traccia del tumore ma le suggeriscono di fare chemioterapia ma a quel punto non la rifiuta più dice vabbè ma che mi farà anche la chemioterapia insomma questo per dire cosa per dire lei che la rifiutava e quindi va bene tutto è questa la chiave quando entri in uno stato d'animo di osservazione del fenomeno equanime per quello che è senza giudizio senza equilibrato senza vederlo né negativamente né positivamente ecco che ci si apre un po' a questo stato d'animo in cui tutto è possibile tutto va bene ed è questa la guarigione ovviamente come nel caso di Anita Morgiani se tutto va bene sono già guarito a prescindere se poi il mio corpo guarisce o meno quella è una conseguenza che ci può essere effettivamente perché ho imparato la lezione non ho più bisogno a quel punto di amarmi ho fatto tesoro dell'esperienza ma non è detto può darsi invece che continuo a essere malato il punto qui però è che la guarigione è già avvenuta ad un altro livello ecco questo che ci tenevo in qualche modo a passare come informazione ma questo non può se pensiamo a questa cosa non ci dovremmo sorprendere sul fatto che poi qualcuno effettivamente guarisce pure attraverso dei percorsi di crescita personale dei percorsi meditativi perché appunto smette quantomeno di fare abbraccio di ferro con un'esperienza negativa e questa lo ribadisco è la vera guarigione a livello più alto possibile poi lo abbiamo detto in altre circostanze la scienza ha visto che ci sono in chi medita spesso c'è un inspessimento della corteccia cerebrale di un millimetro addirittura diventa più grande il cervello un minore diffusione del cortisolo che diciamo quella sostanza dannosa per l'organismo che avviene quando abbassiamo che di fatto ci fa abbassare difese immunitarie e che avviene quando siamo stressati ecco ci sono meno c'è meno mortalità per problemi cardiovascolari tutte queste cose sono state dimostrate da diverse ricerche soprattutto fatte dallo Yale mi pare insieme a un'altra università e quindi addirittura hanno constatato non so come hanno fatto che un praticante di meditazione può vivere addirittura più a lungo però ecco non parlerei di queste cose come assolute non voglio dare come dire non vorrei che qualcuno meditasse per guarire perché meditare per guarire diventa poi motiva di ansia e ci si allontana invece da quell'attitudine di serenità con cui invece posso veramente meditare e aprire gli occhi alla circostanza che sono chiamato ad attraversare perché è quella la chiave lo ribadisco è quella la chiave quindi ok sì è vero ci sono tante belle ricerche interessanti sulla meditazione come come cura la meditazione per guarire però ecco la guarigione vera e propria avviene a certi livelli non voglio creare false illusioni perché poi come dire la tendenza di chi per esempio insegna come me meditazione ci crede all'utilità della meditazione poi potrebbe essere ok quindi lo dice quella ricerca lo dice la scienza merita e curati con la meditazione no ci sono le cure cioè la medicina la meditazione è sicuramente un grande supporto e dal momento in cui che la meditazione la vera guarigione avviene a un livello psichico a un livello di psica a un livello dell'anima ecco che il mio invito è intanto di guarire a quel livello perché è quello quello che importa a prescindere da il tipo di guarigione che si può anche eventualmente manifestare nel corpo o meno ecco questo è ci tenevo a fare questo ragionamento perché mi ha permesso di arrivare all'essenza del discorso per cui secondo me la meditazione è effettivamente uno strumento di guarigione a prescindere dalle interessanti e confortevoli ricerche che la scienza sta facendo da qualche anno a questa parte in merito alla meditazione soprattutto la meditazione di consapevolezza se ti è piaciuto il video lascia un bel like scrivi anche un tuo commento perché è utile sentire la tua è arricchente per me e per gli altri iscriviti al canale se non l'hai già fatto e se non hai ancora scaricato la meditazione gratuita la trovi qua che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici e che tu sia felice e che tu sia felice